Come probabilmente molti di voi o alcuni di voi ricorderanno, Mater et Magistra fu una delle encicliche di Giovanni XXIII, in particolare fu un'enciclica che riguardava i problemi sociali, riprendeva una strada già aperta da Leone XIII e poi ancora da Pio XII. Questa enciclica è del 15 maggio 1961 e tra le altre cose si preoccupa di sottolineare l'importanza della solidarietà, del rispetto degli altri. Perché da Mater et Magistra a Mater et Noverca, che è questo strano titolo latino che abbiamo dato, sarà che siamo in clima di conclave per l'elezione del nuovo Papa, ma insomma abbiamo dato questo titolo. Noverca in latino vuol dire matrigna. Matrigna in questo caso non nell'accezione di madre adottiva, di seconda madre, ma nell'accezione letteraria di madre crudele, madre poco amorevole, se non addirittura crudele. La natura matrigna di Lucrezio nel De Verum Natura, ma anche la natura matrigna di Leopardi. Insomma, tutte queste citazioni colte perché? Perché quello che ci ha colpito è questa vicenda del cardinale Roger Maoni, il cardinale attualmente sospeso da cariche pubbliche per volontà e decreto del suo successore. Il cardinale di Los Angeles che è stato accusato, tanto da essere sospeso dalle autorità della Chiesa, quindi non dai tribunali laici che potrebbero essere sospettati per dirla alla Berlusconi di comunismo, è stato sospeso perché è ritenuto responsabile di aver coperto, quantomeno, se non sul fatto che sia direttamente responsabile si discute molto, ma certamente ha coperto dei casi di pedofilia nella Chiesa, nel senso cioè che invece di incidere in maniera evidente sui responsabili di questi casi si è limitato a spostare i sacerdoti da una diocese all'altra per soffocare gli scandali. Sta di fatto che per colpa del comportamento del cardinale Maoni, adesso arcivescovo emerito di Los Angeles e del suo vice, insomma di fatto il suo vice, Kerry, la Chiesa americana ha patteggiato con circa 500 vittime di abusi sessuali su minori un risarcimento di quasi 660 milioni di dollari. Il cardinale Maoni, essendo cardinale, ha tutto il diritto di partecipare al conclave, cioè nonostante la Chiesa abbia preso dei provvedimenti nei suoi confronti, non ha perso né l'elettorato passivo né il cosiddetto elettorato attivo, che vuol dire in gergo tecnico, vuol dire che può votare e anche essere votato. Paradossalmente potremmo avere il prossimo Papa, diciamo così, pedofilo o comunque amico o in ogni caso tollerante. Ecco, non vogliamo essere querelati anche dal Papa prossimo o quasi. Amico dei pedofili, insomma tollerante verso i pedofili. Ovviamente questo ha suscitato reazioni di comunità cattoliche, soprattutto americane, ma ha suscitato meno reazioni, se non un po' vaghe, della comunità cattolica italiana. Sebbene Famiglia Cristiana abbia lanciato un sondaggio, se è favorevole o contrario, questi sondaggi demagogici del cavolo, pare che se la gente dice sono favorevole poi il cardinale va o non va, insomma lascia il tempo che trova. Bisognerebbe che la Chiesa la prendesse posizione. D'altro canto il Papa, al di là di tutte le chiacchiere che si sono dette, qualcuno quando si è annunciato il suo ritiro dal pontificato ha anche detto che è vittima di ricatti per questa sua attività, diciamo contro la pedofilia, perché ufficialmente il Papa Ratzinger, il Papa Abanetto XVI si è dato molto da fare contro la pedofilia. E a questo proposito anzi va detto che uno dei rammarichi del cardinale Maone è che lui si sente umiliato, lo ha scritto anche sul suo blog, perché ormai i cardinali, specialmente quelli americani, hanno il blog come Betta Grillo, ma comunque ha scritto sul suo blog che lui è stato oggetto in questi ultimi giorni di molte umiliazioni e prega il Signore, insomma, porge l'altra guancia, d'altro, essendo il cardinale, certo non può andare in giro a sparare come fanno gli studenti nei collegi americani e quindi insomma dice che lui porge l'altra guancia, ma che si sente sereno, in pace col Signore, il punto qual è? Il punto è che proprio esplicitamente il cardinale Maone è accusato di avere insabbiato sostanzialmente 129 casi di abusi sessuali su minori, volgarmente detti pedofilia. Ora, che cosa fa la Chiesa concretamente per dare un segnale al di là delle parole? Perché Ratzinger ha parlato a lungo nel corso del suo breve ma intenso pontificato sul problema della pedofilia. Che cosa fa per dare significato, concretezza a queste parole? La Chiesa. A queste parole del suo ex Papa, difficile, non sanno neanche bene che cosa farne di questo Papa adesso, perché è la prima volta che capita in tempi moderni, che hanno un Papa che non è più Papa ma che non può essere retrocesso a fare il parroco di campagna, ma questo lasciamo cosa. Il cardinale Maone stesso dice, si lamenta del fatto che lui è a sua volta vittima di un sistema, perché in passato aveva segnalato ufficialmente, aveva chiesto alla Chiesa di intervenire su questi sacerdoti che si sono macchiati di questo terribile reato e però la Chiesa si era manifestata in passato un po' inerte, quantomeno per usare un eufemismo, e quindi poi alla fine lui ha fatto da capo espiatorio. Certo è che l'atteggiamento anche dell'opinione pubblica su questa vicenda della pedofilia e di chi fa qualcosa contro la pedofilia nella Chiesa è un po' contraddittorio, perché per esempio è un fatto che sotto il pontificato di Giovanni Paolo II di Papa Ueti la Chiesa ha fatto ben poco su questo problema. Ha fatto invece di più, oggettivamente, va detto sotto il pontificato di Benedetto XVI di Papa Ratzinger e tuttavia Papa Ratzinger sconta l'accusa anche un po' maliziosa di avere a che fare con queste storie e invece il pontificato di Giovanni Paolo II è immune da qualunque critica da questo punto di vista. A sentire Mahone invece è stato proprio quel pontificato a suggerirgli di fatto, se non esplicitamente ma implicitamente, di essere tollerante e di limitarsi a piccoli spostamenti di geografici dei sacerdoti pedofili per contenere lo scandalo piuttosto che affrontarlo a viso aperto. Tuttavia questo problema di Mahone ormai si pone perché partecipa al conclave e questo non è bello, non è un bel messaggio da dare. Tanto più che io ho stampato, perché come sapete cerco di evitare di citare come fanno altre cose in maniera sbagliata, forse ricorderete nel 2006 l'attuale Papa ancora per poco ha indirizzato una lettera ai fedeli d'Irlanda, al clero e ai fedeli d'Irlanda proprio per i casi di pedofilia molto numerosi e preoccupanti che si sono registrati nel corso degli anni in Irlanda, responsabile la Chiesa Cattolica. Che cosa dice in questa lettera il Papa Benedetto XVI? Dice rivolgendosi ai sacerdoti indistintamente responsabili di questo tipo di azioni. Avete tradito la fiducia riposta in voi da giovani innocenti e dai loro genitori. Dovete rispondere di ciò davanti a Dio Onnipotente, come pure davanti ai tribunali debitamente costituiti. Avete perso la stima della gente dell'Irlanda e rovesciato vergogna e disonore sui vostri confratelli. Quelli di voi, che siete sacerdoti, avete violato la santità del sacramento dell'ordine sacro, in cui Cristo si rende presente in noi e nelle nostre azioni. Insieme al danno immenso causato alle vittime, un grande danno è stato perpetrato alla Chiesa e alla pubblica percezione del sacerdozio e della vita religiosa. Vi esorto ad esaminare la vostra coscienza, ad assumere la responsabilità dei peccati che avete commesso e ad esprimere con umiltà il vostro rincrescimento. Il pentimento sincero apre la porta al perdono di Dio e alla grazia del vero emendamento. Offrendo preghiere e penitenze per coloro che avete offeso, dovete cercare di fare personalmente ammenda per le vostre azioni. Il sacrificio redentore di Cristo ha il potere di perdonare persivo il più grave dei peccati e di trarre il bene anche dal più terribile dei mali. Allo stesso tempo la giustizia di Dio esige che rendiamo conto delle nostre azioni senza nascondere nulla. Riconoscete apertamente la vostra colpa, sottomettetevi alle esigenze della giustizia, ma non disperate nella misericordia di Dio. Questo è il pensiero del Papa. A fronte di questo pensiero uno dei cardinali responsabili di queste che il Papa, adesso lo riprendo perché il Papa chiama azioni che hanno rovesciato vergogna e disonore sui confradelli, sulla Chiesa, sul popolo, che hanno tradito la sacralità del sacramento, su questo che il Papa definisce in questo modo, adesso pesa un'ombra perché una persona responsabile di queste cose, dichiaratamente per documenti responsabile di queste cose, viene a Roma a votare in conclave e ad essere votato anche in teoria. La cosa divertente è che a proposito di legittimo impedimento che gli americani non riconoscono tanto facilmente come noi. Il 23 febbraio il cardinale Maoni andrà a testimoniare proprio in un processo per abusi sessuali sul minore negli Stati Uniti e poi dopo viene a Roma al conclave perché gli americani non riconoscono come legittimo impedimento neanche il conclave, noi invece riconosciamo perfino la campagna elettorale come legittimo impedimento. Io mi augurerei che una riflessione che non sia così superficiale come quelle che stanno attraversando il cosiddetto popolo del web in questo momento a proposito della visita in Italia del cardinale Maoni, venga fatta in maniera seria e ponderata. Nel frattempo, quando il cardinale Maoni arriva a Fiumicino, mi raccomando, tenete i bambini a casa. Dello stesso parere, Pulcinella, che anche oggi è qui con me, lui queste storie cerca di evitarle perché gli fanno veramente venire il volto a stomaco. E se fanno venire il volto a stomaco a Pulcinella? Arrivederci.